Ho scelto di partecipare alla masterclass il potere del portiere principalmente perché io voglio migliorarmi sempre al massimo e pensavo che qui riuscivo a trovare le cose che non sapevo infatti è stato così adesso mi sento molto più forte sicuro come vero numero uno una cosa che mi resta da dentro è stata il carattere che il portiere deve assumere durante il partito gli allenamenti o comunque sempre anche durante la vita di tutti i giorni e l'attenzione che è che è fondamentale per il ruolo del giovane portiere consiglierei a molti altri portieri perché senza queste cose essenziali i portieri che non frequentano questo camp non si possono considerare portieri al cento per cento perché non sapendo queste cose non sono ai nostri livelli